Chi c'è? Se finora non si è fatta viva, è davvero un'amica. Ce ne avete messo di tempo. E lei che ci ha chiamato per l'incidente? Sì, ero per strada. Ho visto una macchina investire un ragazzo che andava in bicicletta. Non riusciva a camminare, sembrava a essere gamberote. Il finzio di macchina parlava con l'autista di... di un ospedale. L'hanno caricato e sono andati via. Ha visto bene chi era alla guida? No. Sarebbe in grado di descrivere l'auto e magari dirci il numero di targa? No, non ho preso la targa, ma era sicuramente una silica argentata. Il mio biglietto da visita, se ne venisse in mente qualcos'altro. Va bene, grazie. L'ospedale più vicino è un po' isolato. Ci andiamo? Sì, appena fotografata la scena. Ah, certo. Quello è il tuo telefono di servizio? Oh no, quello è la valigetta. Allora ti farò una domanda, ma sia chiaro che non sei obbligato a darmi una risposta adesso.